L'aiuto verso chi soffre, soprattutto bambini e anziani, il donare una carezza, un sorriso, è l'attività dell'associazione Mister Sorriso che fa appunto volontariato nelle varie strutture ospedaliere. L'amministrazione comunale ha voluto essere vicina alle tante iniziative, in particolar modo l'assessorato alla cultura retto dall'avvocato Gina Lupo. Allora parliamo di questi eventi di sabato 5 novembre, nella mattinata un convegno presso l'Università di Taranto, l'ex caserma Rossarol e poi nel pomeriggio la nascita del Parco della Gioia. Quello che ha fatto l'associazione Mister Sorriso è veramente qualcosa di straordinario. Con l'aiuto dei loro associati hanno acquistato un parco dei giochi per bambini non vedenti, non udenti, bambini con disabilità. Non potevo non esserci a fianco di chi in questa città cerca di fare queste iniziative veramente meritorie. È eccezionale nei confronti dei più piccoli, l'ho sempre detto, avranno sempre il mio sostegno. Non potevo esimermi. Abbiamo pensato di creare intorno all'inaugurazione del 5, del pomeriggio del 5 novembre, un convegno la mattina per sensibilizzare i cittadini perché, come ho detto prima, questo parco è di tutti. Deve essere fruibile dai bambini con handicap, ma è di tutti la responsabilità di preservarlo, di non distruggerlo e di veramente di mantenerlo. Mi auguro che il messaggio sabato mattina sia questo e che passi proprio questo.